Buongiorno e benvenuti, bentornati a Radio Puginioner, dove ci immergiamo nelle complesse vicende che animano il nostro mondo e oggi esploreremo in dettaglio il ruolo chiave della veggente di Trevignano, Gisella Cardia, nel contesto delle indagini sui presunti maltrattamenti associati all'ex frate Scozzaro. Quali sono gli ultimi aggiornamenti su questo caso che ormai è diventata una fiction sul mio canale YouTube dove molti si sono iscritti sia seguaci di Gisella Cardia sia invece miscredenti come qualcuno li ha definiti in un commento in particolare che ho letto oggi, miscredenti. Le ultime novità sono che le indagini condotte dalla polizia giudiziaria hanno rivelato un intricato intreccio tra le profezie mistico-religiose di Scozzaro e i presunti messaggi attribuiti alla Vergine Maria tramite Gisella Cardia, emerso che le profezie di Scozzaro, che sembravano essere di origine divina, trovavano una precisa fonte nei messaggi trasmessi dalla veggente di Trevignano. La vicenda della Casa Mariana Collesano è stata al centro di attenzione per le accuse di maltrattamenti con Scozzaro e il suo seguace Carlo Mazzola coinvolti in presunti atti di violenza nei confronti della famiglia di Mazzola e di altre persone legate alla comunità. Il coinvolgimento di Gisella Cardia in questo contesto ha assunto ruolo significativo, poiché le sue presunte visioni e i suoi presunti messaggi ricevuti dalla Madonna hanno influenzato profondamente il pensiero e le azioni di Scozzaro e dei suoi seguaci. Secondo l'informativa finale redatta dal sostituto commissario della Polizia di Stato Calogero Alba, il ruolo di Gisella Cardia è stato sottolineato come elemento chiave per comprendere la dinamica delle presunte profezie e per dare senso agli eventi contestati. È importante notare che nonostante il coinvolgimento di Gisella Cardia nel diffondere i presunti messaggi divini, Maria Giuseppa Scarpulla non è stata coinvolta nelle accuse di maltrattamento rivolte a Scozzaro e Mazzola. Questo caso solleva interrogativi profondi sulla natura delle credenze religiose estreme e sulle dinamiche di manipolazione che possono emergere all'interno di comunità spirituali. L'influenza delle profezie e delle visioni su comportamenti e azioni umane è un tema complesso che richiede un'analisi approfondita e noi questa analisi approfondita la faremo quest'oggi insieme. Intanto le autorità continuano ad investigare per gettare luce su questa intricata vicenda, cercando di comprendere appieno le motivazioni e le connessioni che hanno portato a presunti atti di maltrattamento in nome di queste credenze religiose. Ma molti di voi mi dicono che sono prolisso. A volte la prolissità serve per spiegare bene, per essere molto chiari, per evitare fraintendimenti e anche per approfondire dei temi. Ma andiamo a qualcosa di più concreto per quanto riguarda questo rapporto tra Gisella Cardia e padre Scozzaro. Le recenti indagini della Polizia di Stato hanno svelato una serie di chat tra uno dei due indagati, il fedele seguace di Scozzaro, e una delle sue figlie. In questi scambi emergono accuse gravi attribuite alla veggente Maria Giuseppa Scarpulla. Si legge testualmente. Una persona che si ritiene veggente ci ha detto che tu e tua madre non fate altro che mandarci maledizioni a noi quattro e a padre Giulio. Queste parole evidenziano la profonda convinzione dei partecipanti nelle visioni e nei presunti messaggi soprannaturali della veggente che hanno contribuito a creare un clima di sospetto e conflitto. In un altro messaggio, riportato infatti nell'informativa della Polizia di Stato, si legge, abbiamo saputo dalla veggente di tutto il male che avete fatto a noi quattro e a padre Giulio e non siete solo due streghe maledette, siete molto di più. Queste affermazioni, cariche di accuse e superstizioni, mettono in luce l'influenza distorta delle credenze religiose estreme nel contesto di questa vicenda complessa. È importante sottolineare che il Vescovo della Diocesi di Cività Castellana ha emesso un decreto che sottolinea il rifiuto di ogni manifestazione soprannaturale in relazione a Maria Giuseppa Scarpulla. Questa precisa direttiva del Vescovo chiarisce che la veggente non è approvata dalla Chiesa, non c'è nulla di soprannaturale, le presunte visioni non hanno dunque un riconoscimento da parte della Chiesa. Al momento i figli dello psichiatra coinvolto nei maltrattamenti dell'ex frate Scozzaro devono ancora essere ascoltati dal giudice in sede di incidente probatorio, un passaggio fondamentale per far emergere la verità dietro le accuse di maltrattamenti e manipolazione psicologica. L'inchiesta sull'ex frate Scozzaro rivela un filo rosso intrigante che collega dunque la veggente di Trevignano, Maria Giuseppa Scarpulla, alla vicenda dei presunti maltrattamenti. Secondo quanto emerso dalle carte investigative vi era un legame evidente tra Scozzaro e coniugi Cardia, anche se Scozzaro disse circa un anno fa in tv che non aveva nessun legame, non era il padre spirituale eccetera eccetera ne abbiamo parlato a lungo. Si sono sentiti invece Scozzaro e Giuseppa Scarpulla, Maria Giuseppa Scarpulla ha annunciato la veggente e i suoi seguaci durante un incontro di preghiera addirittura nel campo delle preghiere a Trevignano, il campo delle rose a Trevignano Romano di essere andata a trovarlo a casa Mariana, c'è un video che lo testimonia. Queste interazioni sono state considerate rilevanti anche dagli investigatori i quali ritengono che la Scarpulla, pur non essendo indagata, abbia avuto un ruolo significativo nella vicenda dei presunti maltrattamenti. Emergono dettagli inquietanti sul modo in cui la Scarpulla interagiva con la famiglia vittima dei maltrattamenti, ritenuta da lei indemoniata. Avete capito bene? Coloro che non condividevano le credenze o l'operato dell'ex frate Scozzaro venivano portati all'isolamento e alla demonizzazione, secondo gli investigatori. Queste pratiche hanno avuto conseguenze devastanti, sia sul piano psicologico di chi era coinvolto, sia sul piano proprio della vita stessa che è stata limitata, della libertà anche della corcizione, della manipolazione, così contribuendo a creare un clima di terrore nelle vittime. Per gli inquirenti Scarpulla avallava le parole e le azioni dell'ex frate Scozzaro, anche affermando di ricevere messaggi dalla Madonna che confermavano la loro missione spirituale. Tuttavia è importante ribadire che al momento Maria Giuseppa Scarpulla non è oggetto di indagini da parte delle autorità. Questa serie di eventi mette in luce la fragilità anche delle persone coinvolte in situazioni di estremismo religioso e di manipolazione psicologica. Il coinvolgimento di una figura come Maria Giuseppa Scarpulla che si proclama portavoce di messaggi divini solleva interrogativi cruciali sull'etica e sulle responsabilità nel contesto delle credenze spirituali e delle azioni poi che ne conseguono. Dunque la vicenda che coinvolge ora l'ex frate Giulio Maria Scozzaro e casa Mariana a Collesano continua a svelare dettagli inquietanti sul presunto abuso e manipolazione perpetrati all'interno di questa comunità spirituale. Scozzaro descritto come la presunta guida spirituale di Maria Giuseppa Scarpulla, almeno da lei pubblicamente descritto come tale, lui ha negato, è stato arrestato ad inizio febbraio, attualmente si trova agli arresti domiciliari. Le accuse contro di lui riguardano il presunto maltrattamento della moglie dunque e dei figli di uno psichiatra, anche il suo seguace e colui che condivide la stessa misura di custodia cautelare. Le accuse includono isolamento forzato dal mondo esterno e vessazioni nei confronti della moglie e della figlia del medico, additate come streghe e costrette a guardare filmati di presunti esorcismi. Inoltre Scozzaro e il suo seguace sono coinvolti in accuse di calugna, diffamazione e intralcio alla giustizia, complicando ulteriormente la complessità di questa vicenda. Padre Scozzaro fu definito pubblicamente durante un incontro di preghiera da Gisella Cardia come l'uomo che ha gli occhi di Gesù, evidenziando il potere e l'autorità che gli venivano attribuiti all'interno della sua comunità. Tuttavia gli sviluppi delle indagini hanno rivelato questo lato oscuro caratterizzato da presunti abusi e coercizione psicologica. Dunque vediamo insieme, per concludere questo speciale, alcuni casi simili divergenti e finti religiosi coinvolti in problemi con la giustizia. Tutto ciò può fornire uno sguardo interessante sulle dinamiche di manipolazione e abuso presenti in alcune comunità spirituali, anche se queste situazioni possono essere rare e spesso controversie, complesse. alcuni casi recenti però meritano attenzione e possiamo così riflettere ulteriormente insieme su questi temi. E come sempre aspetto i vostri commenti, apriremo un dibattito su questi temi nei commenti del mio podcast Radio Bugini On Air. Se non siete iscritti restate sintonizzati sin da subito, ecco vi do il tempo in questo momento, prendiamo una piccolissima pausa, vi do il tempo di iscrivervi al mio canale YouTube Marco Pugini oppure se ci state ascoltando su Spotify, Spreakers, altri siti dedicati al nostro podcast, iscrivetevi e restate sintonizzati e poi dopo, dopo aver ascoltato tutto l'episodio, vi invito a commentare, ad aprire un dibattito insieme su quanto stiamo dicendo quest'oggi. Michael Kissi, e non so se la pronuncia è esatta, ma è un esempio rivelatore di come individui che si autoproclamano leader spirituali possano abusare della fiducia e della vulnerabilità delle persone in cerca di aiuto e di guida. Kissi, conosciuto come il maestro del cuore o guru della vita, ha operato in Francia attirando seguaci con promesse di guarigioni miracolose e soluzioni per problemi personali e di salute. Tuttavia, dietro queste apparenze di benevolenza, si celava una truffa subdola e manipolativa. La condanna di Kissi nel 2018 per truffa e abuso di debolezza è stata il culmine di anni di pratiche ingannevoli e corcitive. Il maestro del cuore sfruttava la fragilità emotiva e psicologica dei suoi seguaci, offrendo loro una via d'uscita da situazioni difficili attraverso insegnamenti spirituali e pratiche di guarigione. Queste promesse, spesso accompagnate da richieste di denaro e donazioni, hanno catturato la fiducia di individui disperati per migliorare la propria vita. Una delle tattiche chiave di Kissi era il mantenimento di un controllo coercitivo sulla vita quotidiana dei suoi seguaci. Utilizzava tecniche di manipolazione psicologica per isolare le persone dal loro ambiente sociale e familiare, rendendoli dipendenti dalle sue parole o dalle sue presunte capacità. Questo controllo aveva lo scopo di consolidare le sue capacità, la sua autorità, impedire qualsiasi forma di resistenza o criticità da parte dei suoi seguaci. Le conseguenze di questa manipolazione sono state devastanti per molte persone coinvolte. Molte delle vittime di Kissi hanno subito danni finanziari considerevoli, oltre a gravi ripercussioni emotive e psicologiche. La condanna a penale di Kissi è stata un importante segnale di giustizia per coloro che sono stati ingannati e abusati da lui. Il caso di Michael Kissi serve da monito sulle potenziali trappole e pericoli persistenti nell'ambito delle pratiche spirituali non regolamentate e delle figure carismatiche che promettono risultati straordinari. È fondamentale per i consumatori essere vigili e critici di fronte a promesse troppo buone per essere vere e adottare un approccio informato, razionale, consapevole nella ricerca di aiuto e di una guida spirituale. La vicenda di Kissi ci ricorda l'importanza della tutela delle persone vulnerabili e della responsabilità dell'autorità nel contrastare le pratiche abusive nel contesto delle attività spirituali e dei movimenti di autoaiuto. Poi c'è un altro caso interessante, NXIVM è la cronismo di NXIVM Executive Success Programs. La cronismo stesso non ha un significato specifico oltre ad identificare il nome dell'organizzazione e dei suoi programmi di sviluppo personale e leadership, ma Kate Ranier, il fondatore di NXIVM, ha tirato numerosi seguaci promettendo un percorso di autorealizzazione, realizzazione, crescita personale, successo attraverso programmi di sviluppo personale e corsi di leadership. Tuttavia dietro questa facciata di benessere e crescita, che non è per esempio questo un caso dove c'è di mezzo la Madonna o la religione, ma è importante capire come tanti sfruttano allo stesso modo gli stessi meccanismi psicologici. Dietro questa facciata di benessere e crescita si nascondeva un sistema piramidale manipolativo che ha inflitto danni psicologici e finanziari a molti dei suoi adepti. La struttura del NXIVM coinvolgeva diverse leve di controllo e manipolazione. I partecipanti venivano invitati a frequentare costosi corsi e programmi di formazione promettendo loro di ottenere benefici personali e professionali significativi. Questi corsi tuttavia si sono rivelati essere una forma sofisticata di coercizione e controllo mentale. Uno degli aspetti più inquietanti di questa truffa era il suo segmento chiamato DOS, Dominus Obsequios Sonorium, un gruppo segreto di donne sottoposte ad un regime di schiavitù e coercizione psicologica. Le partecipanti a DOS dovevano fornire collateral compromettenti, come informazioni personali o fotocompromettenti, sottostare a pratiche di umiliazione e controllo totale da parte di Ranier e dei suoi associati. Ranier è stato accusato e condannato per una serie di reati gravi, tra cui tratta di esseri umani, cospirazione e frode. Questi reati hanno svelato l'estensione della manipolazione e dello sfruttamento perpetrati da lui e dai suoi complici all'interno di NXIVM. La condanna di Ranier nel 2019 è stata un momento cruciale nel portare alla luce le pratiche abusive della setta e nel garantire giustizia per le vittime coinvolte. Tuttavia il caso di NXIVM rimane un monito su come le promesse di autorealizzazione e successo possano essere usate per fini manipolatori e dannosi. Perché mi dite parli sempre della religione? No, ci sono tanti casi diversi. Qualcuno sfrutta la religione e qualcun altro sfrutta invece il successo o altri aspetti che sono attraenti per le persone in difficoltà. Ma anche in Italia ci sono casi simili e oggi citiamo il caso della comunità Nuvola Bianca fondata da Giuseppe Ferraro in Italia che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla manipolazione e agli abusi all'interno dei gruppi spirituali. Giuseppe Ferraro è stato il fondatore e leader della comunità Nuvola Bianca che si presentava come un luogo di guarigione spirituale e sviluppo personale. La comunità attivata da lui attirava seguaci offrendo promesse di benessere fisico, emotivo e spirituale attraverso pratiche e insegnamenti apparentemente basati su principi spirituali e filosofici. Tuttavia ciò che è emerso dalle indagini è stato molto diverso. Nel 2021 Giuseppe Ferraro è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e maltrattamenti. Le autorità hanno scoperto che dietro le facciate di guarigione e benessere Ferraro e suoi collaboratori hanno abusato emotivamente e finanziariamente dei loro adepti. I membri della comunità Nuvola Bianca erano soggetti a manipolazione psicologica, costrizione emotiva e sfruttamento finanziario. Le pratiche abusive includevano la richiesta di ingenti somme di denaro per corsi, seminari e trattamenti spirituali o terapeutici promettendo benefici e guarigioni che non si sono mai materializzati. Inoltre i seguaci erano sottoposti ad un controllo coercitivo delle loro vite personali con la negazione delle loro libertà e l'isolamento da amici e familiari che non condividevano le credenze della comunità. Questo è avvenuto e ci sono le testimonianze anche nella comunità di Gisella Cardia Trevignano. Ciò che ha creato una dipendenza emotiva e psicologica dei leader della nuvola bianca alimentata dalla loro vulnerabilità emotiva e dal desiderio di trovare risposte o conforto spirituale. Le accuse di maltrattamenti comprendevano anche un ambiente di terrore psicologico con l'uso di minacce e intimidazioni per mantenere il controllo sui membri della comunità e questo caso evidenzia l'importanza di essere consapevoli dei potenziali rischi associati a gruppi spirituali e di sviluppo personale che promettono guarigioni o trasformazioni miracolose. È fondamentale fare ricerche approfondite, mantenere uno spirito critico e consultare fonti affidabili prima di entrare a far parte di comunità che richiedono un alto livello di impegno ed adesione. Le autorità italiane hanno agito per mettere fine agli abusi della comunità nuvola bianca e per portare giustizia agli adepti che sono stati danneggiati emotivamente e finanziariamente e speriamo avvenga lo stesso per tanti altri casi simili. Questi sono alcuni esempi che evidenziano come veggenti e finti religiosi o altre figure carismatiche possano abusare della fiducia e della devozione dei loro seguaci per scopi personali e nefasti. Le autorità giudiziarie e i media hanno un ruolo cruciale nel portare alla luce queste situazioni e nel proteggere i cittadini dalle manipolazioni e dagli abusi all'interno di comunità spirituali. Questo è un altro dei motivi per cui qualcuno mi dice ma tu sei ateo e perché parli sempre di queste cose? Ecco ne parlo perché è fondamentale. È fondamentale mantenere uno spirito critico e informarsi in modo completo prima di essere coinvolti in gruppi o movimenti che promettono soluzioni miracolose o guarigioni straordinarie. La consapevolezza e l'educazione sono potenti strumenti per proteggere se stessi e gli altri da possibili truffe e manipolazioni. Il coinvolgimento di Gisella Cardia nei presunti casi di maltrattamenti attribuiti all'ex frate Scozzaro aggiunge un elemento particolarmente complesso a questa vicenda. Vediamo alcuni punti di confronto con altri casi simili che abbiamo esaminato. Manipolazione e abuso psicologico. Nel caso di Gisella Cardia emerge il sospetto che le sue presunte visioni e i suoi messaggi possano aver contribuito a creare un ambiente di manipolazione e abuso psicologico all'interno della comunità legata a Scozzaro. Analogamente altri finti leader spirituali come Michael Kissi e Kat Ranier che abbiamo citato prima hanno sfruttato la devozione dei loro seguaci per fini personali manipolando le loro credenze costringendoli a comportamenti dannosi. Ruolo dell'autorità religiose. Mentre alcuni leader spirituali sono stati sottoposti a sanzioni o condanne da parte delle autorità religiose ufficiali nel caso di Gisella Cardia emerge un contrasto perché non è stata approvata dalla Chiesa e le sue presunte visioni non hanno un riconoscimento dunque da parte della Chiesa. Questo solleva domande sulla responsabilità delle autorità religiose nel regolare e monitorare le attività dei veggenti e leader spirituali autoproclamati. Dunque un decreto che uscirà il prossimo 17 maggio, ne abbiamo già parlato in un altro episodio, da parte del Vaticano proprio perché i Vescovi abbiano la possibilità di pronunciarsi ed emettere decreti simili a quello che è stato emesso, forse può essere quello che è stato emesso da Marco Salvi, il Vescovo di Civitavec, Castellana su Gisella Cardia potrebbe essere solo il primo, dunque un esempio per ciò che poi faranno gli altri vescovi delle altre diocesi sui presunti veggenti di cui si ha notizia e di cui parleremo ora pian piano anche qui nel nostro podcast di altri veggenti che ce ne sono almeno 200 in Italia in questo momento attivi. Noi ne abbiamo citati alcuni, ad esempio Marco Ferrari della Madonna di Paratico e ce ne sono tanti altri, alcuni me l'avete anche segnalati voi, continuate a farlo, ne parleremo nei prossimi episodi. Ciò che sappiamo con certezza è che nei casi che abbiamo citato e in molti altri le convinzioni estreme dei leader spirituali hanno avuto conseguenze devastanti sulle vite e sulla salute mentale dei loro seguaci. L'isolamento sociale, l'indottrinamento coercitivo e la demonizzazione delle persone non allineate sono pratiche comuni che possono causare danni psicologici, duraturi, insomma tutto ciò che stiamo vedendo anche in relazione al caso di padre Scozzaro di questi presunti maltrattamenti. Non sono novità, sono cose che già conosciamo. È cruciale comprendere come le credenze estreme e le pratiche manipolative possano influenzare le persone e portarle a compiere azioni contro il loro stesso interesse. Le indagini della Polizia Giudiziaria, nel caso di Gisella Cardia, evidenziano l'importanza delle autorità investigative nel portare alla luce possibili abusi e manipolazioni all'interno di comunità spirituali. La giustizia deve essere garantita per proteggere le vittime e prevenire futuri casi di abusi simili. Dunque, in conclusione, il caso di Gisella Cardia aggiunge un tassello importante nel panorama dei casi di veggenti finti religiosi coinvolti in controversie giudiziarie. Queste situazioni sollevano interrogativi profondi sull'etica, sulla responsabilità e sulla protezione dei diritti e della salute mentale delle persone coinvolte. Noi continueremo a seguire naturalmente il caso di Gisella Cardia da molto vicino. Continueremo ad aggiornarvi in tempo reale su tutte le novità, su tutte le altre novità che usciranno fuori anche da queste indagini in cui è coinvolta attraverso queste chat di cui vi abbiamo parlato anche in questi giorni, negli scorsi episodi. Se siete curiosi e non ne sapete abbastanza, non ne avete avuto abbastanza, andate anche ad ascoltare gli episodi precedenti. Invito a commentare e dunque a continuare il dibattito nei commenti del nostro podcast. Grazie per aver esplorato con noi questo argomento complesso in questa nuova alba. Continuate a seguire Radio Puginio NER per ulteriori approfondimenti su storie e temi che influenzano il nostro mondo contemporaneo. Vi ringrazio per i commenti, in genere cerco di rispondere a tutti per quanto mi sia possibile. Siete tantissimi che scrivete ogni giorno e io cerco comunque sia di rispondere naturalmente ai commenti che meritano una risposta, altri non la meritano. Vi invito dunque sempre ad essere rispettosi verso tutti perché potete anche parlare evitando parolacce eccetera. E poi naturalmente certi commenti che ledono o non in linea con le regole della community di YouTube siamo costretti anche purtroppo a cancellarli per cui potete esprimere le vostre opinioni in modo civile senza insultare nessuno. Questo è il modo migliore per confrontarci. Vi ringrazio ancora per averci ascoltato anche in questo episodio. Io vi do appuntamento al prossimo speciale di Radio Pugginio NER.